segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te noi ogni tanto giochiamo con la nostra calma si è fatta si è rotta la stedica inquadratela dai fai vedere perché poi non scappare scappa succede a volte no valter nelle tu che fai regista sul più per fortuna che il solito passano sempre gli elicotteri quando si comincia a girare ecco quello tipico prima però siccome molto vicino i nostri piedi ci siamo salvati almeno questa sera i piedi allora dicevo